Un'altra morte sulle spiagge di Pesaro. Ancora come accaduto meno di un mese fa nel litorale di Levante fra la Palla di Pomodoro e Piazzale d'Annunzio. Questa mattina la tragedia si è consumata nelle acque antistanti Bagni Vanda dove un malore è stato fatale a Vittorio Di Mauro, 84 anni, pensionato pesarese, ex ispettore del lavoro e funzionario dell'Inps. Una passeggiata in mare con la moglie arriva, poi l'allontanamento dal bagnasciuga verso l'acqua un po' più alta all'altezza del costato. Allontanamento coinciso con un malore fulminante attorno alle 10 di mattina. L'uomo si è accasciato cadendo e ingerendo acqua. Immediati i soccorsi dei bagnini di salvataggio, Repentina l'ha chiamata all'ambulanza con i sanitari del 118 che hanno provato a lungo a rianimare l'uomo ma non c'è stato nulla da fare per Di Mauro, da sempre cliente di Bagni Gabri, morto nelle acque dell'antiquo Bagni Vanda. Io ero qui che sistemavo l'ombrelone, che mi sono stato l'ombrelone, in cui comitante ho sentito fischiare il bagnino, guardando il bagnino uscire con Moscone, ho visto il stuomo disteso che lo portava in arriva, si vedeva subito che erano apparse gravi le cose. Dopo io ho continuato i miei lavori, ma i bagnini di sotto mi sono venuti a chiamare per andare a vedere il riconoscimento se era un cliente mio, perché Banda non era, Iole non era, sono andato giù e ho riconosciuto che era un cliente mio. Il cliente mio storico, una trentina d'anni che veniva qui con la moglie. Sul posto anche gli uomini della guardia costiera per i rilievi del caso e per le operazioni di rimozione del corpo, che è stato a lungo coperto e protetto da ombrelloni durante i tentativi di rianimazione. È arrivata l'ambulanza con il defibrillatore e tutto, ma noi ogni torretta abbiamo un defibrillatore, il bagnino di salvataggio, ogni torretta ce n'ha uno, ce n'hanno uno loro. Hanno incominciato con loro, poi è arrivato quelli dell'ambulanza, l'hanno rianimato, tutto. Un dramma sotto lo sguardo scioccato della moglie e quello atterrito dei bagnanti presenti, molti dei quali quest'estate avevano già visto consumarsi una simile tragedia per infarto sullo stesso tratto di spiaggia. È successo una ventina di giorni fa, un'altra solita cosa, è andata in arco con la moglie, ha avuto un malore e via. Sempre stesso punto, nei paraggi, boh.